Questo piccolo testo nasce dalla mia esperienza pastorale con i giovani sacerdoti impegnato in parrocchia nel trasmettere la fede ai più piccoli ma anche nell'insaldare quella degli adulti. Mi è capitato tante volte durante la preparazione dei genitori al sacramento del battesimo di i propri figli di accorgermi la difficoltà che oggi si ha nel comprendere il linguaggio dei sacramenti. Un linguaggio costituito di segni, di immagini, di parole in cui si nasconde il mistero che poi viene comunicato alle nuove generazioni proprio attraverso il dolo del sacramento del battesimo. Questo testo vuole ripercorrere il rito del sacramento del battesimo dei bambini partendo proprio dagli elementi naturali che gli sono propri, l'acqua, l'olio, la luce, mostrando in maniera non scontata come dietro ogni gesso, dietro ogni odore, dietro ogni simbolo del rito del battesimo si nasconde il mistero che viene comunicato poi agli bambini attraverso il sacramento del battesimo. L'augurio è che questo testo permetta alle famiglie, al padrino, alla madrina impegnati proprio nella trasmissione della fede ai più piccoli e ai loro figli di assaporare e gustare tutta la bellezza del sacramento che stanno celebrando, proprio perché possono non viverlo da spettatori, ma in realtà lo possono vivere da protagonisti.